musica 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 rock n roll party 2014 comincia tutti facciano yeah musica 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nono anno, finalmente il nono anno, il prossimo e il decimo e non vedevamo l'ora. Abbiamo iniziato per il decimo anno, quindi il prossimo anno esploderemo. Quest'anno abbiamo tante novità bellissime. Tantissima gente. Sì, 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 ma ne arriverà ancora tanta perché di solito si crea un mare di gente. Siamo riusciti a tirare gente da tutta Italia. C'è gente oggi di Ancona, di Roma, di Milano, dappertutto, tutta Italia. Tutti rock and roll. Tutti rock and roll, sempre. Tantissima gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.